La nostra priorità in generale è il lavoro, il lavoro, il lavoro. Noi dobbiamo orientare risorse, strumenti normativi, strutture amministrative predisposte a erogare gli incentivi. Verso quell'obiettivo insisteremo molto, stresseremo molto le capacità finanziarie e quelle organizzative per far sì che nella nostra regione le opportunità di lavoro crescano. Così il candidato alla presidenza della regione Abruzzo Giovanni Legnini, parlando di politiche giovanili e delle priorità individuate per i più giovani nel suo programma di governo. L'ex vicepresidente del CSM è stato il primo dei quattro candidati alla carica di governatore intervenuto questa mattina al Media Museo di Pescara al ciclo di incontri organizzati da Coldiretti Abruzzo per avanzare proposte politiche sul comparto dell'agroalimentare. Lunedì toccherà alla pentastellata Sara Marcozzi e mercoledì al candidato del centrodestra Marco Marsilio e a quello di Casa Pound Stefano Flaiani. Giovanni Legnini, sempre più giovani si avvicinano al comparto dell'agroalimentare. Cosa si dovrebbe fare, secondo lei, per le politiche giovanili e anche per il comparto dell'agroalimentare? Per i giovani che intendono avviare nuove attività agricole, nuove aziende, nuova impresa nel settore dell'agricoltura bisogna rafforzare gli incentivi e in generale far sì che i bandi, le procedure, i pagamenti siano rapidi, spediti, con tempi certi. In generale bisogna fortemente rafforzare questa propensione che si avverte verso il mondo agricolo, l'agroalimentare da parte dei giovani perché costituisce la tendenza più forte per far sì che il comparto agricolo nel suo settore riprenda vigore.